Partiti in 118, arrivati in 21. Può bastare questa cifra a descrivere cosa è stanta l'edizione 2018 della Freccia dei Vini. Incando e le cadute hanno fatto una durissima selezione, facendo pianza pulita senza guardare che si trattasse di favoriti o di comprimari. I larghi sorrisi e le facce rilassate della partenza di Vigevano hanno lasciato il posto alle ferite, vere e proprie, che si potevano chiaramente vedere sul traguardo. Nonostante il percorso lungo e un finale a cui guardare con cautela, i corridori non hanno perso tempo. Il primo attacco, che con il senno di poi avrà un peso determinante nel dare forma alla gara, arriva quando si è ancora in pianura. Poco dopo, cropello Cairoli parte una nutrita fuga che mette insieme un vantaggio consistente. Dietro, una maxi caduta nel gruppo porta al retiro di una ventina di corridori. Una vera e propria catombe, dalla quale però alcuni dei superstiti riescono pian piano a recuperare. I primi ricongiungimenti arrivano quando la strada inizia a salire a Donelasco. Comincia qui la seconda fase della corsa. Lanciano l'attacco Bertone e Belleri della Viris, presto raggiunti da altri quattro atleti, tra cui i due della BS Carrera Gavardo, Alberto Amici ed Enrico Logica. Dietro, un altro gruppetto, in cui figurano altri quattro uomini della BS. Cosa sarebbe successo a quel punto era abbastanza facile da capire. Arriva infatti l'attacco di squadra alla prima scalata della Paninza. A involarsi sono Amici, Logica e Stefano Oldani della Colpac. Il tandem BS riesce poi a sfiancare il terzo incomodo Oldani sull'ultima salita, quella da Cigognola a Pietra De Giorgi. E quindi arriva in parata, con Amici a tagliare il traguardo per primo, quasi affiancato al compagno di squadra. Oldani a quel punto difende il terzo posto. Facce stanche ma soddisfatte sul podio. Per la BS Carrera il trionfo è completato dalla vittoria di Lorenzo Delcon nella classifica dei Gran Premi della Montagna.